il video casco ok teoria dentro se volete farlo il video casco oh niente meglio mentre fai il video casco per terra speriamo che no ragazzi dov'andai a fare il video bello ragazzi il video è partito eh oh è partito è partito è partito andiamo provando se si sente l'audio andiamo provando è partito è partito devo fare benzina pure io devo fare benzina pure io è partito è partito è partito calda bene qui è partito è partito è partito oh in teoria è partito il video poi in pratica non lo so cioè può essere pure che non lo fiamo non lo so 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 guarda non lo so 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 non so non lo so non lo so non so non lo so